Era necessaria, era attesa, va a inserirsi in un contesto però di evoluzione della mobilità. Per cui ieri avete visto che il Consiglio Comunale si è portata a questa mozione per anticipare un po' l'uscita dai diesel della città o le limitazioni. Quella è la nostra filosofia, non tanto di vieti in sé ma un accompagnamento verso un'evoluzione che prevede un controllo del traffico più inquinante, il ricambio dei nostri mezzi pubblici e la prosecuzione dei lavori sulle metropolitane. Quindi questo è il percorso, oggi è importante, sono i primi, però a fine anno mi dicono che ne avremo 25, insomma realisticamente ci vorranno 10-12 anni per cambiare completamente il parco bus, ma dall'altro canto se mai si parte. Però io sono molto soddisfatto della strategia di ATM che risponde perfettamente alle esigenze più che dell'amministrazione, direi, della città. E cioè di avere un rinnovo nel parco mezzi, di andare verso una svolta più ecologica nel migliorare il servizio. Ci abbiamo pensato a lungo tanto ma sono arrivato alla conclusione sulla base appunto di questa soddisfazione e del piano importante che hanno proposto di che l'opzione di una proroga diciamo di un paio d'anni è quello di cui c'è bisogno. Ora abbiamo studiato le carte, stiamo verificando le ultime cose, ma ne parlo oggi perché ormai i tempi stringono, quindi solo per dirvi che politicamente ho dato il mandato agli uffici e alla segretaria generale di verificare se nell'ambito delle norme europee tenuto conto del piano investimenti previsti la proroga sia fattibile. Sono ottimista, penso di sì, siamo alle ultime verifiche, che vuol dire che poi porteremo, se tutto va come ritengo, in giunta alla delibera, diciamo dopo Pasqua, perché poi dobbiamo passare dalle commissioni e in consiglio. Quindi tutto torna, certamente alla base c'è una grande collaborazione tra l'amministrazione della città, l'indirizzo politico e ATM che sta rispondendo veramente in piedi.